Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è buonanotte mercati ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì buonanotte mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che è appena conclusa. Parliamo di mercati, economia, finanzia e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti ma anche la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata dando numeri e non sensazioni. Cominciamo subito. Tra le notizie più importanti di questa settimana appena conclusasi. La prima notizia è che alcuni titoli cinesi quotati negli Stati Uniti avranno bisogno dell'approvazione di Pechino per poter rimanere pubblici in altri mercati esteri. Le nuove regole della Cyberspace Administration of China sono entrate in vigore martedì e richiedono alle società cinesi di piattaforme internet con dati personali di almeno e oltre un milione di utenti di poter ottenere l'approvazione prima di potersi quotare sulle borse estere. Ciò include le inserzioni secondarie e doppie, ha affermato giovedì proprio il regolatore cinese. Le società cinesi quotate negli Stati Uniti hanno perseguito tali quotazioni poiché i requisiti di audit statunitensi più severi probabilmente costingeranno molte aziende a ritirarsi dal listing nei prossimi anni. Le nuove regole significano che non tutti troveranno più facile come prima quotarsi su altri mercati. Se le normative statunitensi obbligano le società cinesi a rimuovere le loro quotazioni da New York, le nuove regole di Pechino complicano però ulteriormente il loro percorso per poter andare a raccogliere fondi nei mercati pubblici all'estero. Sebbene queste regole non si applichino alle società che sono già quotate in borsa, coloro che perseguono quotazioni doppie o secondarie all'estero devono però necessariamente seguire il nuovo processo di approvazione del CAC, secondo appunto una traduzione della CNBC in un articolo cinese pubblicato giovedì appunto dal sito web dell'autorità di regolamentazione cinese. La seconda notizia è che dopo il CEO di Tesla Elon Musk ha affermato che le indagini sono incessanti, la SEC ha respinto tutte queste accuse. Infatti la Securities and Exchange Commission venerdì ha risposto alle accuse secondo cui l'agenzia stava molestando addirittura Tesla e il suo CEO Elon Musk, conducendo continue indagini. La SEC aveva precedentemente accusato Musk di frode sui titoli nel 2018 dopo che aveva twittato che stava pensando di prendere la compagnia automobilistica privata a 400 dollari per azione che aveva finanziato. Avevano raggiunto un accordo transattivo rivisto entro il 2019 per risolvere la questione. La SEC però ha presentato venerdì una lettera a un giudice federale in disposta a delle accuse appunto che il CEO di Tesla, Elon Musk, aveva presentato secondo cui l'agenzia aveva infranto gli accordi e si era impegnata in un modello di condotta che secondo lui equivaleva proprio a delle vere e proprie molestie dopo che però il precedente accordo transattivo era stato praticamente infranto. Nel settembre 2018 la SEC ha accusato Musk di aver rilasciato dichiarazioni falsi e fuorvianti agli investitori dopo aver annunciato via Twitter di essersi assicurato un finanziamento per l'acquisizione privata di Tesla a 420 dollari per azione. A seguito dei suoi tweet le azioni di Tesla sono entrate in un periodo di insolita volatilità e l'accordo a cui Musk aludeva alla fine non si è mai concretizzato. Terza notizia di vivo interesse secondo me è quella che Intel prevede ingenti investimenti nelle tecnologie dei chip nei prossimi quattro anni. Ha dichiarato giovedì che prevede che i ricavi del suo segmento, quello che ospita i pc, aumenteranno sì ma cifre singole medio basse e che invece il suo business, quello relativo ai data center e alla intelligenza artificiale, crescerà negli anni solo a partire dal 2023 fino al 2026. Le azioni della società sono scese del circa il 6 per cento mentre quelle di AMD sono scese nel 1 per cento nel venerdì che è appena conclusosi. Le capitalizzazioni di mercato di AMD hanno superato brevemente quella di Intel all'inizio di questa settimana quando ha chiuso il suo accordo con Xilin da 50 miliardi di dollari. Nei pc si aspetta che la quota di mercato di AMD superi la seconda metà del 20 per cento mentre al momento si la trova nell'attuale intervallo compreso tra il 18 e il 20 per cento. Ma Wall Street è meno entusiasta degli ultimi piani di chip di Intel che secondo gli analisti mancano di credibilità in mezzo a una forte concorrenza e includono anche una crescita del margine lordo modesta e una spesa aggressiva. L'analista di Piper, Sandler Harsh Kumar, ha affermato che non vi era alcuna minaccia imminente per Nvidia e AMD dall'ambiziosa roadmap che Intel si è prefissata. Secondo Kumar l'Intel prevede solo di trovare la sua cadenza normale ma non ci si aspetta che prenda alcuna quota significativa di mercato. Un tempo Intel ridere di mercato nel settore dei semiconduttori ha ceduto il suo posto proprio nel 2021 alla Samsung Electronics per la prima volta dal 2018 almeno secondo quelli che sono i dati di Gartner mentre AMD è balzata al decimo posto dal quattordicesimo che occupava. Andiamo però a parlare di numeri. Gli indici americani che continuano la loro permanenza purtroppo per gli investitori in territorio negativo pompati verso il basso dalle enormi tensioni relative alla crisi ucraina che in realtà durante l'inizio della settimana sembrava conclusa ma a fine settimana ha subito un'impernata che la porta sempre di più verso un conflitto armato. Questa settimana nessun indice americano tiene il verde con quello che è diciamo essere il meno peggio è proprio il Russell 2000 che perde solo un 1% su base settimanale. Lo standard è pure 500 di poco sotto all'1,60% mentre il Nasdaq e il Dow Jones sono entrambi vicini almeno 1,90%. Fra i listini mondiali i peggiori spompati o pompati verso il basso come dir si voglia dati dalla crisi ucraina sicuramente sono i due indici russi il Moex e le RTSI che perdono entrambi oltre il meno 5%. Anche l'Austria è al di sotto del 5% ma praticamente tutti i listini mondiali sono in un rosso sangue. Direi che se ne vedono salire pochissimi e infatti quelli migliori quelli che sono in verde sono praticamente solo delle nazioni che non verrebbero attualmente impattati dalla crisi ucraina e per cui dalla crisi di gas e magari neanche sfiorati e sono tutti quelli che sono asiatici, indici asatici, ad esempio il PSI filippino che ha un più 2%, gli indici ginesi tutti quanti sono in positivo e uscirono tra il più 1.2 e l'1.7% e il Tudval dell'Arabia Saudita ha un più 1,74%. Per tornare in parte il nostro Futsimib ha perso nell'ultima settimana un abbondante meno 1,74%. Per quanto riguarda i migliori e i peggiori settori del panorama statunitense questa settimana comunque si potrebbe dire che ha offerto dei spunti di guadagno in alcuni settori che hanno comunque segnato dei rendimenti interessanti anche se nessuno di questi si è fermato a rendimenti a doppia cifra. Mentre ci sono anche settori molto in rosso questa settimana ma anche in questo caso gli Stati Uniti non hanno dato una perdita a doppia cifra. I rendimenti migliori li troviamo nel settore delle comunicazioni con un più 6% e poi la componentistica automotive e il mining entrambi al torno al più 3% di guadagno. Quei settori invece che vengono relegati al rosso sangue sono l'IT con un meno 6% mentre nella forchetta che va dal meno 5 a meno 4% troviamo l'healthcare, la life sciences, software e l'industria dell'entrettenimento, l'entertainment. Passiamo infine come tutti i lunedì al mercato cripto che si è portato dietro sul fagotto le perdite del mercato azionario che sono ovviamente leggermente incrementate considerando il fatto che di solito l'indice di cripto perde di più ma non si discosta tantissimo su base settimanale. A sabato 19 giorno della preparazione di questo video il bitcoin perde circa un 4,59% mentre l'ethereum quasi un 4%. Binance è l'unica a grande capitalizzazione che chiude con un segno positivo appunto a sabato e si ferma un più 1,54%. La capitalizzazione del token di cripto scende con un meno 7% questa settimana. Se invece andiamo a guardare tutto l'indice nel suo complesso il total crypto index inclusivo del bitcoin ha segnato nella sua totalità un meno 3,54% sempre la data del 19 febbraio quando sto registrando questo video. Bene ed eccoci come sempre arrivati alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati che si sono appena conclusi. Settimana che ci ha riportato dei venti di guerra. Da questi venti di guerra possono nascere tantissime opportunità di investimento o grandi spike oppure possono anche esserci delle forti oscillazioni di mercato questo lo sappiamo solo in funzione del fatto che le tensioni che sono attualmente presenti in Ucraina si alleggeriscano o se alla fine purtroppo andranno a sfociare in un conflitto armato. Spero che questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento se così fosse come sempre ti chiedo per favore di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube e un commento per farmi capire cosa ne pensi di questi mini aggiornamenti settimanali. Inoltre se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti e a cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Come sempre buonanotte mercati si conclude qui e ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo aggiornamento sui mercati azionali mentre invece noi ci vediamo domani con un nuovo video. Anche per oggi è tutto e ti saluto ciao